Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Più dritto, più dritto. Sennò ti arriva sulla manica lì. Arriva sulla manica. Via, prima di lei. Vai, c'è lì. Esso, lì, quello va bene, quello va bene. Vai tu, prima di lei, sempre prima di lei. Vai, brava, così va bene. Fuori, fuori, fuori. Vai, c'è lì. 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 Brava, così, 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 così. Vai, portala a te, portala a te. Vai, vai, vai. Lascia, lascia, Jenny. Vai, c'è lì. Jenny, così ferma non va bene. Dai, dai, dai. Jenny, così ferma non va bene. Jenny. Oh, forza. Così ferma non va bene. Così, eh. Così, continua così. Devi andare a credire. Vai, 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 Jenny. Vai, Jenny. Vai, dai. Sì, sì, sì. Vai. Subito, 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 subito. Subito, subito, subito. Vai, vai, vai. Subito, Jenny. Vai, vai. Robi, Robi. Robi, Jenny. Robi, Robi. È not there, è not there, Jenny. Vai, vai. Così va bene. Questo è lo che fa, questo lo che fa, questo lo che fa, questo lo che fa, vai. Anche Cezanne c'è, con la pezza, anche Cezanne. Vai, vai. Vai, subito però, Jenny. Non c'è più tempo, vai, vai. La vita, inizia così. Muovi, 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 Jenny. Ehi. Sei lì. Ehi, sei troppo fermo, sei troppo fermo. Subito, a volte muovi. Vai, vai. Vai, vai, vai. Subito, subito, abbassa di questo. Va bene, va bene. Dai, Matteo. Ehi. Per nì, ancora. Vieni, piedici, c'è nì. Ancora, c'è nì. Ancora, dai, provaci, fino sotto, eh. Subito, subito. Vai, vai, vai. Vai, 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 Jenny. Jenny, forza. Prossima finale. Vieni, vai, vai. Preparire gli altri. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Chiaraghi ha registrato la FESA con la organizzazione del PSS Quindi Vittoria, Pia Lentos, Erika Gagliari, Vesco Sposto, Caminieri, Vesco Sposto Adesso è passato a Pia Lentos, Pia Lentos, Pia Lentos Vediamo la terra che si incontranno così direi che si è finale Pia Lentos Siamo con Erika Barbieri, campionessa italiana assoluta dei 70 kg Anche quest'anno ho visto il successo dello scorso anno a Pesaro Ancora una volta campionessa italiana assoluta e con una finale Poi con un'avversaria di tutto il livello come la Pizzanti Sì, mi sono riconfermata Viene un titolo che viene comunque dopo altre gare che sono andate molto bene La gara diciamo che è stata abbastanza, insomma, non voglio dire facile Comunque la finale sicuramente è stata la più impegnativa con Jennifer che è un atleta giovane però di buon livello Poi dopo molte gare internazionali effettivamente magari facile no Però diciamo che fino alla finale è stata, non so, tutti i pon, tutti vinti praticamente Sì, sì, è stata una gara che conferma un po' un andamento generale anche con le altre gare Molto bene, sono contenta Grazie